Tudududu Tududududu Bentornati e bentornate sul canale Sono Mattia e oggi parleremo di Ista 360 Go La più piccola camera al mondo Action cam così è stata definita da Insta360, azienda che abbiamo recensito sul canale con alcuni loro prodotti davvero interessanti in particolare la One X che è ad oggi secondo me la miglior camera 360 consumer in commercio Insta360 tra l'altro realizza anche prodotti incredibilmente professionali con soluzioni di ripresa 360 super definite e hanno dei costi tra l'altro importanti e ve li lascio in descrizione, andateci a vedere giusto per curiosità voi pensate ci sono dispositivi da migliaia di euro in pronta consegna con Amazon, è qualcosa di fantastico e quando poi uno invece cerca prodotti consumer molto più economici non li trova perché sono andati a ruba questi invece con questi prezzi sono sempre pronta consegna oggi siamo insieme per parlare di Insta360 GO, questa camera che è stato bello in questo periodo vi racconto questo aneddoto perché in questi giorni ho incontrato un sacco di iscritti per gli auguri per lavorare su alcuni progetti e cose che vedrete nel 2020 e quasi tutti mi hanno detto ci piace molto il tuo canale però ti odiamo un po' perché ci fai spendere un sacco di soldi ci fai proprio innamorare dei prodotti e poi dopo aver visto il tuo video alla fine compriamo tutto ebbene questo video sarà diverso perché dopo aver visto questo video non comprerete l'Ista360 GO e questo è il bello al di là delle battute e degli scherzi perché ho trovato davvero limitata questa camera anche se anche se non avendo tante pretesi può essere qualcosa di davvero utile da avere all'interno della propria attrezzatura come vedete io ho una camera adesso che pesa 20 grammi montata sul cappellino me ne posso tranquillamente dimenticare semplicemente dopo averla accesa e aver schiacciato la parte opposta all'obiettivo lei inizia la registrazione video poi dall'applicazione la potremo impostare a nostro piacimento potremo impostare l'hyperlapse con un tocco, due tocchi o tre tocchi, le foto e i video e il bello è che ci possiamo dimenticare di avere questa camera addosso la camera registra filmati che vanno dai 15 ai 30 ai 60 secondi sempre impostabili tramite l'applicazione e in totale riusciamo a registrare circa 200 clip da 15 secondi quindi una batteria, un'autonomia abbastanza ridotta ma il concetto non è quello del vlogging il concetto è quello di andare a riprendere in situazioni dove o non si può riprendere oppure riprendere diventa scomodo oppure ancora vogliamo avere una prospettiva diversa dalle solite il bello per esempio di questa camera è poterla mettere all'interno dello zaino e nel mentre caricare lo zaino e quindi avere una prospettiva completamente diversa da quella che avremmo con una camera esterna proprio dato dalle dimensioni incredibilmente piccole ci sono youtuber che si sono divertiti a metterla sul ventilatore di casa, sul cappellino abbiamo anche il pendaglio che possiamo mettere sotto alla maglietta e poi vi mettiamo sopra alla maglietta ovviamente allineata al pendaglio sotto la camera è magnetica, ha un supporto magnetico molto forte e ci permette così cliccando una volta sola di andare a registrare il nostro video come se avessimo una camera piantata sul nostro petto può essere una cosa comoda come anche abbiamo tutta una serie di accessori a disposizione sia nel packaging che troviamo in fase di acquisto basic di cui vi lascio il link in descrizione sia anche all'interno del bundle speciale che Insta360 ha proprio rilasciato in questi giorni su Apple esclusivamente acquistabile sull'Apple Store e in quel bundle troviamo tutta una serie di accessori utili da avere con questa camera perché secondo me è comunque troppo scarsa come camera l'idea è geniale, il sensore è un sensore che per quanto carino sia va a registrare un video quadrato che può essere poi ritagliato in post produzione comunque il formato finale è o un video quadrato o un video a 16 noni o un video a 9 sedicesimi quindi un video verticale questo lo decideremo dall'applicazione la velocità di bitrate del video esportato è 30 milioni di bitrate quindi abbiamo una definizione abbastanza scrausa e per quanto riguarda le foto scatta foto in JPEG e la qualità non è che sia proprio eccezionale diciamo ci può stare, da una camera così piccola ci può stare i video sono molto rumorosi soprattutto se siamo in ambienti dove la luce non è proprio così chiara forte e anche quando andiamo a realizzare delle riprese con luminosità data da tempo nuvoloso non è che siano poi così definite ci può stare da utilizzare come contorno ma non è una camera che va a sostituire nulla è una camera che tra l'altro richiede anche un po' di manutenzione perché oltre a pulire per bene l'obiettivo essendo così piccolo si tende a metterci sopra le dita è inevitabile, avete visto anche io prima sbagliando ci ho messo sopra il dito e poi l'altro grande difetto tra virgolette è che spesso si pianta cioè spesso si blocca mentre noi stiamo andando a realizzare l'hyperlapse per esempio si blocca la camera e l'unico modo è riporla all'interno del case che funge da caricabatterie e attaccarla al telefono se abbiamo Android dobbiamo anche dotarci del cavetto che è all'interno della confezione però è ancora meno pratico e dopodiché avremo modo di ristaccare la camera cioè rimuoverla proprio dal caricatore e utilizzarla è scomodissima come procedura così come anche dopo averla caricata c'è un grande problema ovvero la temperatura non potremo realizzare dei video fino a che la camera non si raffredderà quindi questa Insta360 Go è un'ottima idea un'ottima iniziativa per quanto riguarda il comparto qualitativo quindi foto video direi assolutamente pessimo l'idea è mozzafiato questo si e spero Insta360 realizzi una versione che possa essere la GoPro magari Insta360 Go 2 che ne so un pochino più grande anche cioè se fosse anche 40 grammi fa niente ma almeno che abbia una risoluzione degna di questo nome i video sono a 2700 x 2700 30 fotogrammi al secondo e la risoluzione della camera dopo averla cercata in mille siti non sono riuscita a trovarla però non me la ricordo ma l'ho trovata arrivo 9.2 pollici F2.1 è l'apertura il diaframma di questa camera quindi molto aperto e abbiamo anche di solito una buona messa a fuoco una cosa che mi stavo dimenticando è water resistant è water resistant quindi potremo immergerla il vantaggio poi di questa camera che è anche un microfonino nella parte superiore quindi volendo potremo anche utilizzarla per registrare qualcosa come sentirete tra pochi secondi la qualità audio anche qui fa piangere come si è vestito bene oggi cazzo mi fico eh oh no ma si è vestito bene abbiamo anche lo slow motion oltre all'hyperlapse le foto e i video e la cosa più bella secondo me di questa camera quella che più mi è piaciuta è il fatto di non doverla utilizzare tenendola in mano cioè ed è una cosa che non è proprio da dare così scontata al di là dei droni che richiedono comunque un radiocomando questa ce la si può quasi dimenticare a me è capitato di metterla sul ventrix che è un tessuto molto sottile e la calamita funziona bene con lo zaino muovendo la spalla dello zaino c'è il rischio che succeda qualcosa che accada qualcosa e che si possa staccare la ISA 360 quindi bisogna comunque prestarci attenzione però ce ne si può tranquillamente dimenticare salvo in alcune circostanze dove invece avere bene sempre dagli una controllata per esempio sul cappellino è abbastanza sicura e tranquilla come posizione vedete non cade non si muove per niente ok adesso basta e qui abbiamo tra l'altro l'invoglio per rimuovere la camera cosa che non abbiamo nello stand e infatti togliere questa camera dallo stand richiede un mignolino proprio da cinesino cioè da persona proprio piccina cioè con le mani piccole non è che voglio offendere nessuno però davvero perché non fare un invoglino un po' più grande uno deve avere il mignolino secco secco per togliere la camera vabbè al di là di questo è un ottimo prodotto vi consiglio e mi permette di consigliarla a coloro che hanno piacere a realizzare video diversi dai soliti diversi dai soliti è un po' un concetto rivisto della GoPro cioè il mondo GoPro era creare cioè avere un occhio diverso sulle azioni che noi facciamo questa è la stessa cosa dando ancora più la possibilità di creare video unici proprio grazie alle clip ai sistemi di montaggio che noi abbiamo potremmo anche volendo apporla a una superficie magnetica perché è dotata di supporto magnetico quindi ha un metallo potremmo tranquillamente apporla insomma potremmo sbizzarrirci su questo c'è poco da dire a livello qualitativo invece c'è sarebbe tanto da dire ma l'abbiamo già detto quindi non abbiate grandi pretese perché la qualità ahimè è quella che è ora io vi registro la fine del video direttamente dalla lista 360 che ovviamente sarà scarica infatti che culo se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi un saluto e buona continuazione su YouTube ciao a tutti iscriviti al canale